segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te parliamoci chiaro violando segreti e lasciamo perdere ma soprattutto ma dando dei mafiosi a quelli del pd ma quelli del pd se non c'è la mattina già è molto che si alzano dal letto figurati se possono essere mafiosi o di cosa una bella difesa da parte della del partito democratico però ultimo punto ora entrerà